Questa mattina tanti volontari qui sulla spiaggia di Santa Maria e lungo tutto il litorale di Castellabate per l'operazione Spiagge Pulite. Un momento di sensibilizzazione per il mare da parte dei ragazzi e dei tanti volontari. In effetti queste giornate sono positive per l'ambiente perché a livello nazionale il fattore ambientale è molto sentito. Non a caso il quadro normativo nazionale lo pone alla dipendenza del Ministero dell'Ambiente e del Territorio. Quindi la tutela dell'ambiente marino costiero e del mare è uno degli obiettivi primari del Corpo delle Capitini Porta Guardia Costiera sia per il patrimonio naturalistico presente sul territorio ma anche per gli interessi socio-economici messi in campo. Il mare è anche una risorsa, però com'è possibile difenderlo e cosa c'è ancora da fare? Diciamo che c'è molto da fare. Un punto di partenza positivo è appunto questa giornata dedicata al mare, quindi alla pulizia delle spiagge per svegliare le coscienze dei più grandi educando i piccoli. C'è anche una grande sinergia con l'amministrazione di Castellabate? Assolutamente sì. Lavoriamo costantemente in sinergia con il comune di Castellabate, con il sindaco, con gli assessori. Siamo molto in sintonia su tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda l'ambiente marino appunto, specialmente nel periodo estivo, insomma di tutto quanto riguarda la sicurezza della balneazione, la sicurezza della navigazione, sia nei porti che sul territorio. Perché è così importante che la scuola partecipi a questa iniziativa? Assolutamente perché solo attraverso una completa sinergia tra tutte le forze, autorità scolastiche che sono presenti sul territorio si può effettivamente operare in senso positivo, altrimenti si fa solo teoria e non pratica. Invece lavorando sul campo, sia a scuola che fuori, si dà modo di far fare queste esperienze utili ai cittadini del domani che sono i nostri alunni e che assolutamente attraverso queste esperienze possono trovare una pratica e consolidare questi insegnamenti che noi quotidianamente gli stiamo dando. Infatti il nostro comune ha aderito ad Acquasi Plastic Free e a tante altre iniziative che durante l'anno stiamo svolgendo in tutti gli ordini di scuola, quindi dall'infanzia alla primaria e oggi con la secondaria, proprio perché c'è grande interesse da parte della nostra scuola, della nostra preside e di tutti quanti i nostri docenti, per cui l'opera di sensibilizzazione è quotidiana. I ragazzi sono già impegnati sulla spiaggia Marina Piccola, Santa Maria, ma cosa porteranno dentro di loro dopo questa giornata? Porteranno esperienze valide, fatte sul campo, che sono quelle migliori, quelli che ti insegnano realmente che certe cose vanno fatte e che un piccolo contributo da parte di ognuno di noi serve a salvare quello che è un territorio bellissimo. Noi ci mandiamo di essere uno dei territori più belli del Cilento, sicuramente è la perla del Cilento. Infatti, come dicevo pure al Presidente prima, c'è poco da pulire, per fortuna perché siamo noi stessi consapevoli di avere un patrimonio da proteggere. In compagnia di Michele Bonomo, che stamattina dirigente di Lega Ambiente, era qui a Castellabate. Perché era importante essere presenti? È importante perché qui si stanno facendo delle cose molto interessanti dal punto di vista ambientale, con il contenimento, la prevenzione dei rifiuti, le case dell'acqua che sostituiranno le bottiglie di plastica, l'illuminazione a LED che farà abbassare i costi, ma anche le emissioni di gas climalteranti, di anidride carbonica, di CO2, perché nelle menze si fa un servizio di qualità, sia dal punto di vista della fornitura dei pasti, ma anche riducendo la produzione dei rifiuti, perché poi nell'immaginario collettivo Castellabate è un luogo simbolico sia del Cilento sia della nostra regione. Per cui quello che avviene di positivo qui potrà essere riverberato, proposto anche altrove. Era necessario esserci, ho accompagnato i dirigenti di Campani di Lega Ambiente, naturalmente noi siamo un solo corpo, lavoriamo sempre insieme, e insieme abbiamo individuato questa come una delle esperienze da raccontare, anche a livello nazionale.